Cosa pensa dell'impegno della Cida e dei manager italiani per il rilancio del Paese e di questo momento di confronto con i candidati alle elezioni? Beh, sicuramente importante perché ovviamente il mondo manageriale è uno di quei mondi importanti per l'economia italiana, sia nel privato che nella pubblica amministrazione. Dopo, come ho detto nel mio intervento, io sono anche figlio di un manager del settore privato, di una grossa realtà, quindi conosco bene la vostra associazione. Io penso che il contributo che possano dare i manager alla competitività, allo sviluppo d'Italia è ovviamente un contributo importante sia per quanto riguarda il settore del privato ma soprattutto per quanto riguarda il pubblico, che forse è il settore dove ci sono molti manager, però è forse quello più carente dal punto di vista della formazione professionale e della professionalità. In quale ambito ritiene che le organizzazioni dei manager possano maggiormente contribuire a migliorare la politica del Paese? Ma è sicuramente l'esperienza di un manager che è un'esperienza fortemente aziendalistica, a volte anche all'organizzazione delle aziende, può servire per riorganizzare uno Stato e degli enti magari che ovviamente hanno dei livelli di non efficienza molto elevati, quindi forse l'esperienza manageriale di persone abituate a avere a che fare con delle realtà da ristrutturare può essere utile in un momento in cui bisogna ristrutturare questo Stato. Cosa pensa del programma politico CIDA, delle priorità e delle azioni individuate? Il programma direi che è buono, è l'unica critica che posso fare perché bisogna sempre andare in cerca poi anche della... Non c'è molto sulla spending review, nel senso che io penso che il passaggio epocale dei prossimi anni sarà quello del taglio della spesa, crescita sviluppo sì, però c'è una spesa improduttiva che deve essere assolutamente tolta e tagliata e su questo ho trovato che ci sono pochi punti. Molto positiva dal punto di vista del fisco, del welfare e della competitività sicuramente. Certo che se non riduciamo il debito pubblico, se non tagliamo quei 2020 miliardi che produttono 80 miliardi di interessi passivi all'anno, ho paura che la competitività e le altre azioni di sviluppo non servano a nulla. Alla luce della sua esperienza, su quale delle priorità del programma CIDA intende impegnarsi maggiormente nel corso del suo mandato elettivo? E in che modo ritiene si potrà misurare il risultato di tale impegno? La mia esperienza, perché poi io nel privato sono dottore commercialista, quindi uno studio commercialista, quindi sono un fiscalista, quindi anche nella legislatura precedente mi sono impegnato in maniera molto importante in questi temi, cioè nel tema del fisco, che anche questo è un tema centrale, e nel tema della riorganizzazione poi della struttura statale.